L'errore è di Candellaro che invade e ammette subito, 4-7, modena ancora avanti, Zaito tira forte, il nastro ralenta, Crebeni come in palleggio, palle primo tempo, Candellaro cancellato, facciamo un mix, Cancellaro da parte di Elia Bossi. Lettura straordinaria di Elia Bossi che salta a sangue, dritto, va in cielo, 8-4. Tira molto forte anche Bednar, palla sul petto di Clemen Cebul, leggermente staccata, ancora Elia Bossi, questa volta sulla pipe di Russell, scelte di tempo nel salto a muro da veterano consumato, d'altronde campione d'Italia 2016.